Le storie di mare sono sempre affascinanti, soprattutto quando appartengono all'epoca eroica della scoperta del mondo, che era come viaggiare ai confini dell'universo. Storie avventurose, misteriose, pericolose, con navi che scompaiono nel nulla, diventando protagoniste di leggende da fantasmi, naufragi spaventosi o ammutinamenti così feroci da sconfinare in un vero e proprio racconto horror. Ecco, ce n'è una di queste storie che mette insieme tutto questo e i massimi livelli. Sono Carlo Lucarelli, racconto spesso avventurose, misteriose storie di mare e questa, per me, è una delle più incredibili, la storia di una nave che si chiamava Batavia. La Batavia era un grosso, anzi no, un enorme, vascello a tre alberi, lungo più di 56 metri, largo 10 e alto, fin in cima alle vele, altri 50. 650 tonnellate di stazza e 24 cannoni, con un grande castello a poppa e un leone dipinto di rosso come polena, a prua. 180 uomini di equipaggio, una delle più grandi navi commerciali della sua epoca, vale a dire il XVII secolo, 1628, l'anno in cui è stata varata. La possiede la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, una delle più potenti organizzazioni commerciali del mondo, assieme alla sua omologa inglese, la Compagnia Britannica delle Indie, quella di Sandokan, per intenderci. Veri e propri stati negli stati, che amministrano il mondo coloniale facendo spesso il lavoro sporco per conto dei propri governi e soprattutto guadagnando un mare, è il caso di dirlo, di soldi. Per commerciare con le merci, e in particolare con le spezie che arrivano dai possedimenti olandesi in Asia, come Jakarta, la Compagnia fa armare il Batavia, che mette in acqua nella rada di Texel, nell'Olanda settentrionale, alla fine di ottobre del 1628. La rotta è la solita per quel genere di navi della Compagnia. Giù per tutto l'Atlantico fino a Città del Capo, prima tappa del viaggio per rifornirsi di acqua e cibi freschi. Tempo stimato sei mesi. Poi, una volta doppiato il capo, dritti nell'Oceano Indiano, fino al momento di tornare su, verso l'isola di Java, altri due mesi circa. A bordo, tra equipaggio, soldati e passeggeri, ci sono 330 persone. A comandare il Batavia sono in due. Uno è il capitano, naturalmente, il signor Arjen Jacobs, un marinaio di una certa esperienza, anche se non molto brillante. Un tipo rozzo e violento, soprattutto quando beve, e cioè quasi sempre, visto che è un alcolizzato. L'opposto dell'altro comandante, che nelle navi della Compagnia delle Indie, è il commissario di bordo, il responsabile commerciale della spedizione, che dovrebbe essere quello che veramente decide. E infatti, il commissario Francisco Pelsaert è un uomo colto e intelligente, ma dalla salute instabile, sempre a letto con la febbre. Non si sopportano il commissario Pelsaert e il capitano Jacobs, e va bene, ma non è tanto questo che farà la storia incredibile del Batavia. A rendere il nostro racconto qualcosa di degno di un film horror è un altro personaggio, uno psicopatico alla Charlie Manson, una specie di serial killer che si chiama Hieronymus Cornelitz. Prima di imbarcarsi sul Batavia, Hieronymus Cornelitz faceva il farmacista, o meglio, come si diceva allora, lo speziale. Aveva frequentato la scuola latina Dokkum nella Frisia, una regione nel nord dell'Olanda, nel 1623. Si era trasferito ad Harlem e lì, nel centro della città, aveva aperto una farmacia che andava piuttosto bene. Poi erano successe due cose. La prima era stata la morte del figlio appena avuto, ucciso da una infezione da sifilide. Cornelitz aveva accusato la balia, a cui lo avevano affidato, ma probabilmente era stato lui ad attaccare la malattia venerea alla moglie, un sospetto che gli rovina reputazione e affari. Perché in effetti Cornelitz era un tipo abbastanza inquieto, sicuramente anticonformista, appartenente ad una setta piuttosto estrema degli anabattisti, che già erano abbastanza eccentrici rispetto agli altri protestanti nell'Olanda di allora. Soprattutto, però, Cornelitz aveva un maestro, un pittore, che si faceva chiamare Johannes Torrentius, che era la traduzione latina del suo vero nome, Johannes van der Beek. Beek in olandese vuol dire ruscello, torrente. Torrentius era un pittore molto noto e ricercato dai committenti, perché aveva questo modo di dipingere davvero particolare, così realistico e così dettagliato, così abile nell'uso delle ombre e della luce, che quello che dipingeva sembrava uscire magicamente fuori dalla tela. Magicamente. Così tanto che dicevano che avesse fatto un patto col diavolo. Ma non in senso figurato. Proprio per davvero. Libertino, anticonformista, scandaloso per la morale molto rigida di quella parte d'Europa, appartenente all'ordine segreto dei Rosa Croce, Torrentius si proclamava più o meno satanista. Ecco, Cornelis era un suo seguace, ammirava il pittore e ne condivideva le idee, soprattutto quando sosteneva che tutto è lecito, tutto è permesso, a chi possiede uno spirito superiore, come loro naturalmente. Persone destinate ad un successo al di sopra delle leggi, a diventare padroni, dominatori, re. Fantasie di un farmacista un po' strambo, destinato a morire di sifilde o di qualcosa altro dopo una vita passata tra i vizi. Roba sua, insomma. Se non fosse, per l'altra cosa che nel frattempo era successa. Torrentius era finito sotto processo, accusato di eresia, satanismo e condotta immorale, interrogato sotto tortura dal tribunale e condannato a vent'anni di carcere. Se ne era fatti soltanto due, perché Carlo I, il re d'Inghilterra, era un ammiratore della sua arte e aveva chiesto alle autorità olandesi di portarselo a corte. Dopo Torrentius, Cornelis lo sapeva, sarebbe toccato a lui finire sotto processo e non gli sarebbe andata così bene, perché un amico re, un povero speziale come lui, di certo non ce l'aveva. Così era scappato da Harlem, aveva bussato alle porte della compagnia delle Indie e si era fatto assumere come sottocommissario di bordo. Primo in carico, la Batavia, destinazione Jakarta, in quello che era il suo primo viaggio inaugurale e che sarebbe stato, come per il Titanic, anche l'ultimo. Un viaggio di otto mesi nel mondo di allora e con le navi di allora non è uno scherzo. Simone Leis, che ha scritto un libro su questa storia, I naufraghi del Batavia, mette in fila molto efficacemente una serie di problemi. Scomodità fetida con quattro latrine per più di 300 persone, promesquità, mancanza di aria e di spazio, topi, parassiti, sporcizia, viveri avariati, ammuffiti o coni vermi, acqua putrida, malattie mortali come lo scorbuto e la ferrea disciplina che serviva a mantenere l'ordine in un contesto come quello. Aggiungiamo la possibilità di andare a fondo per una tempesta o un attacco dei pirati. Ecco, il Batavia aveva un problema in più, Hieronymus Cornelis. Lui la sente l'inquietudine, l'attenzione che monta sulla nave, si nutre di tutta quella rabbia. Intesta il suo destino, il destino di quelli come lui, superiori alla morale e alle leggi, superiori agli altri, comandare, dominare, diventare re. Cornelis è bravissimo a parlare, ha carisma ed è incredibilmente convincente. Si lega subito al capitano Jacobs e a quattro o cinque marinai. L'obiettivo è quello di impadronersi della nave, che trasporta un carico piuttosto ricco da scambiare con le spezie, venderlo agli inglesi o ai portoghesi e sparire dividendosi il bottino. Ma gli uomini sono pochi per un ammutinamento, così a Cornelis viene un'idea. Sulla nave tra i passeggeri ci sono alcune donne, una in particolare, Lucrezia van der Michelin, una dama della nuova società di Amsterdam, raffinata, elegante e bellissima, che viaggia per raggiungere il marito. Cornelis la fa aggredire dai suoi che una notte la portano sul ponte, la spogliano e abusano di lei. È sicuro che il commissario si arrabbierà e dispenserà punizioni esemplari con un pugno di ferro, che in un clima teso come quello che regna sul Batavia farà da miccia all'ammutinamento. Cornelis però non ha fatto i conti con il carattere del commissario Pelsaert, che oltre ad essere debole e malaticcio è anche molto cauto, più guanto di velluto che pugno di ferro, e rimanda tutto a quando arriveranno finalmente in porto. Niente rappresaglia, niente miccia, niente ammutinamento. I piani di Cornelis sembrano destinati a fallire, ma come ormai questa storia ci ha abituato ad aspettarci, ecco che succede un'altra cosa. Il capitano Jacobs, lo abbiamo detto, nonostante la sua lunga esperienza non è un granché come marinaio, perché va bene che la strumentazione sulle navi praticamente ancora non esiste, e non è facile calcolare longitudine e latitudine, ma ha proprio sbagliato rotta. Invece di puntare dritto sull'isola di Java sta passando troppo vicino all'Australia, più di 500 miglia più a est di dove credeva di essere. È notte, i marinai di Vedetta non fanno in tempo a dare l'allarme che Batavia si schianta contro la barriera corallina delle isole Abrolos. Resta incastrato tra gli scogli, con l'acqua che entra dalle falle e le onde che lo spiaccicano contro le rocce. A bordo intanto è scoppiato il caos. Il Batavia ha un paio di lance. Il commissario Pelsaer le fa mettere in acqua e riesce a portare la maggior parte dei passeggeri con cibo e acqua su una piccola isola a forma di triangolo. Nei giorni successivi esplora le altre isole del piccolo arcipelago. Non le trova adatte alla sopravvivenza e con una quarantina di marinai più il capitano, che ha a bordo, tira dritto verso l'isola di Java a cercare soccorsi, senza dire niente a nessuno, perché la piccola lancia è già sovraccarica così. E comunque, mica è detto che ci arriva a Java, che sta 1800 miglia più in su, anzi, sarebbe un miracolo. Sul Batavia, incastrato tra gli scogli, sono rimaste 70 persone, che non si erano decise a scendere. Poi, all'improvviso, sotto i colpi delle onde che l'hanno frustata per nove giorni, la nave si schianta e cola a picco. Si salvano in venti, che riescono a raggiungere a nuoto l'isolotto triangolare. L'ultimo si dibatte a lungo tra le onde, si aggrappa alle tavole di legno che galleggiano e finisce su una spiaggetta, mezzo annegato, ma salvo. Non è una bella cosa, però. È brutto dirlo, ma è così. Perché quell'ultimo naufrago è proprio lui, Hieronymus Cornelis. Batavia Kerkhof, il cimitero del Batavia, come viene battezzata l'isoletta triangolare sulla quale hanno trovato rifugio i naufraghi, è un fazzoletto di terra arida e corallina di 450 metri per 250, sulle coste di un continente come l'Australia, che sappiamo essere un paradiso, ma che allora veniva considerato uno dei luoghi più inospitali del mondo. La vita è dura, ma può essere anche peggio. E infatti, in breve tempo, sfruttando il suo carisma e la sua capacità di parlare, ma anche e soprattutto il fatto che appena c'è qualcuno che non è d'accordo lo fa ammazzare dai suoi seguaci, Cornelis prende il potere sulla piccola comunità di naufraghi, che rapidamente trasforma in una comune criminale, una sorta di family alla Charlie Manson, in cui lui, Hieronymus Cornelis, è il capo assoluto. L'isola diventa una specie di campo di concentramento dove Cornelis sfoga tutte le sue psicopatie in un'orgia di sangue e violenza, da cui non si può scappare. Affascinati dalla sua personalità e dalle sue idee, alcuni dei suoi uomini lo seguono ciecamente, come se Cornelis riuscisse a tirare fuori il lato peggiore di ognuno, la loro metà oscura. Abusano delle donne che poi uccidono, se ne salvano poche, tra cui Lucrezia, perché uno dei suoi la chiede come premio. Ammazzano a caso chi gli capita davanti, o li guarda, non dico male, ma anche solo stranamente. Mantengono tutti gli altri in uno stato di schiavitù permanente e quando qualcuno si ammala e non è più in grado di lavorare, lo fanno fuori. Se per tutti gli altri la batavia a Kherkov è un inferno, per Cornelis è il paradiso. Può fare quello che vuole, superiore a tutto morale e leggi, che in un caso e nell'altro sono soltanto le sue. Si fa chiamare capitano generale, un dominatore, un padrone, un re. È proprio quello che voleva. Alcuni naufraghi si sono rifugiati in un'isoletta vicina, l'isola alta, la chiamano, perché al centro ha una specie di collinetta. Li comanda uno dei soldati della guarnigione del Batavia, di Ebbe Hayes, e lì la vita va meglio, intanto perché Hayes non è uno psicopatico serial killer come Cornelis e i suoi, ma anche perché sull'isola c'è acqua e piccoli canguri di cui andare a caccia. Hayes fa fortificare l'isola come può e cerca di armare i suoi compali di legno appuntiti perché lo sa che prima o poi Cornelis arriva da loro e sarà una strage. Lo sa perché lo ha visto. Un altro gruppo di naufraghi si era rifugiato sull'isola delle foche. Cornelis è arrivato con i suoi e ha massacrato tutti, uomini, donne e bambini. Infatti in agosto Cornelis e la sua family attraversano lo stretto che separa le isole e attaccano. Vengono respinti, attaccano ancora e forse ce la farebbero. Ma ecco che il 17 settembre 1629 succede un'altra cosa e questa volta finalmente è una cosa buona. Arriva il commissario Pelsaert, di cui tutti si erano dimenticati, probabilmente anche noi, e che contrariamente alle aspettative è riuscito a raggiungere l'isola di Java e a tornare indietro con i soccorsi, tra cui parecchi soldati. Così la family di Cornelis viene sconfitta e lui catturato. Quando il commissario Pelsaert lascia quei luoghi da incubo, si porta a casa più o meno una settantina di superstiti. Nei tre mesi che ha regnato sul suo piccolo arcipelago, Cornelis ha ammazzato e fatto ammazzare più di 180 persone, tra uomini, donne e bambini. Viene processato lì sull'isola, torturato e condannato a morte. Gli mozzano tutte e due le mani e poi lo impiccano e con lui un bel po' dei suoi assassini. Dicono che prima di salire sul patibolo abbia pronunciato solo una parola ripetuta due volte. Vendetta, vendetta. E se ci immaginiamo con che occhi abbia guardato la piccola folla che gli stava davanti, lui, Hieronymus Cornelis, speziale, capitano generale, leader di una setta di psicopatici assassini, beh, ecco che davvero questa storia di mare diventa un film horror. Uno di quelli in cui dopo i titoli di coda vedi il cattivo che torna.